Bella a tutti ragazzi, qui è WillyJ e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su Call of Duty Black Ops 3 E appunto, siamo qua, ritornati su Black Ops 3 Andremo a fare una partita come al solito Come potete vedere, ho sbloccato lo shite Che poi vabbè, non sarebbe lo shite Ma lo specialista in questione è il Reaper Comunque, andiamo a trovare una partita come al solito Quindi andiamo sul nucleo, uccisione confermata Ok, ed eccoci qua, partita trovata Finalmente è uscita la mappa Che ovviamente a me non mi piace E' uscita la mappa Bridge Su questa mappa faccio cagare all'ennesima potenza Comunque, nonostante ciò, siamo pronti a giocare Spero ovviamente di finire in positivo Ma la vedo abbastanza difficile Perché su questa mappa mi trovo veramente malissimo Quindi spero che riesco a concludere in positivo O che almeno non faccia tanti morti Magari faccio un casino di kill Vedete un po' voi qua che cosa potrebbe accadere Allora innanzitutto vedo gente che mi spara Perché mi sparano da dietro Senza motivo Allora qua c'è sempre il casino Perché è il centro della mappa Allora Boh, non saprei Ragazzi non sto incontrando nessuno È veramente strano Cioè non vado al centro della mappa Perché se no muoio sicuro 100% scondato Boh ragazzi dovrebbe essere uno qua Eccolo là Mori Non moriva raga Non moriva Vabbè te sei fottuto la targhetta Dai Oh Il lag mi aveva risucchiato giù Incredibile Un altro No 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 Si è scaricata l'arma Si è scaricata l'arma Cavolo Potevo fare la doppia E magari andare un po' in vantaggio Ma no Si è scaricata l'arma Ovviamente Ma ce n'è uno L'ho ucciso Perfetto Grandissimo L'abbiamo ucciso Ragazzi ci sto mettendo tutto il mio impegno Per cercare di finire in positivo Perché appunto come avevo detto questo Come avevo detto prima Que Cavolo ho camberato là Comunque come avevo detto prima appunto Questa qui non è la mia mappa Quindi spero veramente di finire in positivo Ce la sto mettendo tutta Speriamo Guarda là Guarda là quanti ce ne morite tutti Mamma mia Quanti chi l'ho fatto Una Una sola Dai però E che cavolo Si sono allontanati tutti Qua dietro di me c'è qualcuno Vediamo Uh 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 Morice Mamma mia L'ho inghiudato il muro Con una roba strana L'ho inghiudato il muro Veramente ragazzi Qua è stata tanta fortuna E vaffangulo A quello là che Mi spara Camberato là dentro Oh ragazzi Kill Kill con la granata Attenzione qua Doppia Ce ne erano due lì Maledizione Ragazzi siamo in negativo Questa cosa non va assolutamente bene Bene Questa cosa non va assolutamente bene Quindi dobbiamo correggere questo errore Magari cercare di diventare positivi Che non è una cosa molto difficile Perché non abbiamo fatto tante morti alla fine Allora dentro questa capannetta ci dovrebbe essere qualcuno Eccolo là invatti È morto Mamma mia E non moriva Ovviamente Qua c'è un altro Ho ucciso anche questo Dietro di me ce n'era un altro Ma ovviamente devo sempre ricaricare Se ci vado fottuto Boh ragazzi Non so cosa dire Attenzione Non so cosa dire Anzi la mia squadra sta veramente dominando 46-30 Siamo in positivo Ottimo Non mi interessa se sono in positivo di una kill O di due kill L'importante è che finiamo in positivo Perché già ragazzi Se concludo in positivo su questa mappa Per me significa veramente tanto Perché non ho mai concluso in positivo su questa mappa Allora C'abbiamo lo shite Vediamo un po' Vediamo un po' Ovviamente quello si mette in mezzo Eeeh Io da qua me ne vado Da qua me ne vado Lo shite comunque che Si spreca molto velocemente Quindi Devo usarlo veramente bene Eccolo là E ovviamente L'abbiamo usato benissimo ragazzi Siamo morti Forse l'unico problema dello shite È che appunto Non lo so utilizzare bene Sì Non lo so utilizzare bene Boh è una cosa Più forte di me Non so utilizzare lo shite Veramente Quindi Scusatemi per questa cosa Ma lo shite Non lo so utilizzare Ragazzi Là ce ne sono due Attenzione Attenzione E vaffangulo però Pure io che sono coglione Che non lo sparo Veramente Veramente Ragazzi Io su questo gioco Potrei anche andare bene Se non avrei I miei problemi mentali del cavolo Che devo sparare E poi non sparo più Per quale motivo Prima sparo E poi non sparo più Sono l'unico al mondo A fare una cagata del genere Che sparo E poi non sparo più Veramente assurdo Comunque teniamo La concentrazione Perché se no Finiamo in negativissimo Porca o troio Guarda Già siamo in negativo Nessuno lo può schiodare Nessuno lo può schiodare Nessuno lo può schiodare da là dentro Oh ne ho ucciso uno Finalmente Va 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 Finalmente Finalmente ne muore uno E ovviamente quello non muore Nonostante io gli sparo Uh Ma vaffangulo Gli ho sparato dove Gli ho sparato io Praticamente Guardate Abbiamo fatto le stesse cose E no Ovviamente lui mi deve uccidere Uh Qua ce n'era un Madò Madò come ti ho salvato il culo Ti ho salvato il culo male Ma male 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 Mole male male Te morici pure Bravissimo Ora tipo Il mega recupero Gli ultimi 20 secondi Ve lo immaginate Boom Tirali la granata E niente Finisce qua la partita 99 67 Bo ragazzi 15 23 Abbiamo fatto una partita Ovviamente Molto brutta Comunque ragazzi Dai tutto sommato Abbiamo fatto una partita Vai così Una via di mezzo Perché Non abbiamo fatto Né tanto bene Né anche tanto male Perché poteva andare peggio Io immaginavo che Andava addirittura peggio Io di solito Su questa mappa Brick Prendo tipo 40 morti E 10 uccisioni Quindi siamo andati Parecchio bene Rispetto Alla normalità Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Buongiorno ragazzi Qua senza motivo Sono finito Nella modalità campagna Quindi Se volete passare Della pagina di facebook Trovate in descrizione Iscrivetevi al canale Per nuovi video Qua da volizio è tutto Bella raga Vai Abbiamo trovato Perfetto Veloce Veloce Apri l'inventario del cazzo Vai Oddio Oddio Chiudi Via Via Bastardo Si è ingriccato Porca Veloce Veloce Perfetto Veloce allemaal Grazie a tutti.